Presidente, quale sarà la sorte per i non vaccinati? I non vaccinati intanto non sono vaccinati e non si vaccinano. I vaccinati vogliono che i non vaccinati si vaccinano perché essendoci vaccinati non contagiano i vaccinati. E invece i non vaccinati dicono che non ci vacciniamo perché se ci vacciniamo contagiamo i vaccinati. Invece i vaccinati dicono che voi dovete vaccinare perché se vi vaccinate non contagiano i vaccinati. E allora adesso la situazione è difficile da capire e difficile da spiegare. Io penso che ve l'ho spiegata il meglio possibile per farvi capire quello che si deve fare.